Approfitto di questo invito dell'Angri per parlare di Costituzione Scuola, perché come dico sempre ai miei alunni, la Costituzione sta al diritto come la stella polare sta ai naviganti e in questo mare che si agita sempre di più la Costituzione è la nostra vera guida, è il nostro valore da diffondere nelle scuole. Infatti questa iniziativa ha una data che è quella della promulgazione della Costituzione stessa, non è una data casuale. Sono molto contento di parlare di Costituzione anche se io non sono un giurista, sono un letterato, un laureato in lettere.